È considerato il liturgista del secolo, è stato per oltre vent'anni accanto a Giovanni Paolo II come maestro delle celebrazioni del Santo Padre, è stato accanto anche all'attuale pontefice per qualche anno. Stiamo parlando dell'arcivescovo titolare di Martirano, Monsignor Piero Marini, in visita in Bergamasca, in Valle Seriana e quest'oggi a Gandino per celebrare una solenne concelebrazione nella solennità di Cristo Re. Io ho svolto un servizio che mi è stato chiesto e questo servizio è iniziato a 45 anni, dopo 22 anni che lavoravo già nella congregazione per il culto e prima ancora nel consiglio per l'attuazione della riforma liturgica. Questo mio servizio al successore di Pietro, al Vescovo della Chiesa Universale, si è prolungato nel tempo al di là di quello che era possibile immaginare e questo è dovuto sia al lungo pontificato di Giovanni Paolo II, 27 anni e sia anche alla malattia che il Papa ha avuto negli ultimi anni e che gli rendevano difficile cambiare le persone che stavano vicine a lui o meglio rendevano a lui più facile l'esercizio del Ministero. Anche per questo il mio servizio si è prolungato per oltre 20 anni, 20 anni e mezzo, 18 anni, oltre 18 anni con Giovanni Paolo II e due anni e mezzo con il suo successore Benedetto XVI. Che cosa più le è rimasto di questo servizio? Dicevamo maestro delle celebrazioni del Santo Padre. Vogliamo ricordare qual è questo compito e in che cosa consiste? Il compito consiste anzitutto nel organizzare, dirigere le celebrazioni presiedute dal Papa o celebrate in suo nome e quindi tutte le celebrazioni che si fanno a Roma, nelle basiliche romane, nelle parrocchie di Roma, in Italia e in tutte le comunità grandi o piccole che il Papa visita, che Giovanni Paolo II ha visitato. E il secondo ufficio, compito del maestro è anche quello di assistere alla persona del Santo Padre. Quindi sono queste due cose. Durante tutti questi anni ho potuto vedere, diciamo, un pastore nell'esercizio del suo ministero, il pastore che io ho conosciuto a Cracovia nel 1973, che celebrava con il suo popolo in questa diocesi, l'ho rivisto poi come Papa esercitare questa funzione in tutta la Chiesa. E quindi ho potuto vedere anche l'esercizio di quello che noi chiamiamo il ministero petrino, soprattutto attraverso le celebrazioni. Grazie.